Youtubers Gamers TRASFORMATION Diventa un DIO UN DIO Sport Champions Siamo più di 2 milioni sui tu Nooo Per me è un grande Music Performers Siamo il terzo canale YouTube in Italia Nooooo Fashion Bloggers Ho raggiunto da poco un milione, grazie Makeup Artist Il colore dell'anno, yeah! HAHAHAHA Chi saranno i personaggi più amati o odiati sul web nel 2014? Lo scoprirete su questo canale YouTube E sul sito degli Webshow Awards